Il nome di Leonard Peltier non è noto a ciascuno, mentre dovrebbe esserlo. Leonard Peltier è detenuto in un carcere di massima sicurezza, senza mai essere uscito, da 46 anni. Quindi quale pena, quale crimine può comportare un tale accanimento verso un essere umano? Ma il crimine supposto per il quale Leonard Peltier è stato condannato a due ergastoli successivi non è stato provato con prove certe, ma con prove costruite con supposizioni. Ci sono casi negli Stati Uniti d'America in cui la giustizia non è tale perché si fa vendetta. E non è un caso che questa vendetta venga perpetrato contro un militante per i diritti della sua gente, un bebro del National American Indian Movement. I nativi Amerindi hanno subito cose inenarrabili da quando i colonizzatori WASP e poi tutti quelli che hanno trascinato sono arrivati nel territorio di quelle che conosciamo come Americhe. Io credo che chiunque avesse avuto l'avventura di nascere nel contesto di una società emarginata, vessata, perseguitata, impoverita, se questo chiunque avesse avuto solo anche il sentimento della dignità, si sarebbe impegnato in tutte le lotte possibili per la redenzione, per la liberazione della sua gente, per la conquista di pieni diritti e di piena dignità. E Leonard Peltier lo faceva. Era un militante, un attivista, una cosa che qualsiasi civiltà del diritto dovrebbe ritenere naturale, giusta e cosa buona. Ma non per Leonard Peltier. Perché? Perché nel contesto di ciò che ha provocato la sua condanna a uno scontro a fuoco sono morti due agenti dell'FBI. La pena inflitta a Leonard Peltier è stata una pena di vendetta per vendicare la morte di quegli agenti americani bianchi che sono più degli altri. Allora, un uomo che comunque ha scontato 46 anni di carcere di massima sicurezza dovrebbe essere perciò stesso rimesso in libertà. Ricordo che ci sono paesi come la Norvegia che hanno la pena massima in 22 anni di reclusione. perché dare due orgastoli successivi è come condannare un uomo a morte anzi, peggio se è possibile un calvario interminabile Presidenti che potevano elargire una grazia non l'hanno fatto perché ricattati da manifestazioni della categoria e non graziare comunque un uomo che è stato 46 anni in un carcere di massima sicurezza è un atto di puro sadismo allora io credo che ogni essere umano degno di questo nome a prescindere dalle sue idee politiche debba alzare la sua voce per dire alle autorità statunitensi al nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden basta adesso basta liberate Leonard Peltier subito perché sotto il nostro cielo si sta perpetrando una violenza aggravata dal sadismo e da una logica di vendetta che è contraria al più elementare e al più fondato spirito di giustizia io sto con Leonard Peltier e ne chiedo l'immediata liberazione